Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Bri e oggi mi trovo su Minecraft per mostrarvi ben due cose Allora, innanzitutto questo video è un tutorial su come giocare multiplayer quindi con qualcun altro su Minecraft Pocket Edition per ora porto la Pocket Edition perché ho sottetto questa a disposizione è come avere una skin gratuita, bella per chi ha bisogno di una skin e non so quale prendere perché costano questo è un tutorial come ho detto soltanto la Pocket Edition quindi per chi ha PC non so come aiutarvi per ora Allora, innanzitutto dobbiamo andare per giocare multiplayer dobbiamo schiacciare gioca, vabbè, l'avete visto tutti perché l'ho schiacciato gioca schiacciamo gioca e vi apparirà ovviamente la solita schermata con tutti i vostri mondi allora, voi per per giocare multiplayer dovete andare su Amici allora, fate caso che un vostro amico un cugino, fratello, quello che è va su Minecraft va in un suo mondo per esempio si chiama, non lo so cioè, per esempio vado io in un mondo io mi chiamo Bri e una mia amica o mio amico quello che è va su ovviamente deve avere Minecraft va su Amici e gli apparirà il mio nome che ho scritto Bri ovviamente devono essere collegati per forza alla stessa connessione per esempio se li invitate qualcuno a casa vostra e credo abbiate il wifi non lo so non credo utilizzate i giga e comunque si dovrà collegare alla vostra connessione internet di casa vostra e gli apparirà la scritta per esempio a me apparirà non lo so di mia sorella per esempio Margot io scaccio su e entro nel mondo in cui si trova ovviamente se non sono nella stessa area diciamo nella stessa connessione non gli apparirà la scritta per esempio io ho giocato anche con il mio cugino non so se ho fatto un video non lo so credo di no e praticamente io mi sono dovuta collegare la stessa connessione quindi lui è dovuto venire a casa con me per fare quel video se l'ho fatto non so se l'ho pubblicato vabbè comunque quindi questo era il tutorial su come entrare nel mondo di qualcun altro adesso vi sperierò come avere una skin su minecraft gratis ovviamente allora andiamo andiamo sul profilo qui e queste sono le skin che per ora ho a disposizione allora adesso voi dovete andare fate caso che voi avete tipo Steve scrivete su modifica personaggio e vi apparirà questo qui che potete fare voi per esempio capelli scegliete i capelli per esempio questi qua e tutto per esempio vabbè gli occhi per ora non vanno non carica perché non ho molta connessione quindi carica un po' lentamente vabbè vedi queste sono le cose che ci sono per ora vabbè fate caso che io no cosa ho fatto vabbè che io ho questa skin ma lo so modifica personaggio ovviamente posso fare tranquillamente così torna così per dirvi allora vado per esempio qua questa persona giù qui vado qui e mi apparirà dovete tornare non qui ma qui e mi apparirà di proprietà ottieni di più real real ma real mass plus vabbè quello non dovete scassarlo tanto allora andate se volete prendere le skin proprio sicuramente free schicciate su proprietà mi appariranno le skin queste a me appaiono queste poi non lo so voi perché mia sorella non appaiono credo non lo so vabbè e vi prenderanno queste qui vabbè a parte questa qua che l'ho fatta io con un'app cioè io l'ho fatta e anche questa qui che infatti è trasparente vabbè se volete vi faccio il tutorial una volta non lo so allora poi ho anche questa qui allora queste sono sicuramente gratis poi andiamo su ottieni di più e c'è poi due queste qui che non sono tutte gratis ma alcune per esempio questa qui è gratis però a me fa un po' schifo cioè non è schifo però non è del mio genere ma è copertilla un po' più educatamente vabbè comunque non mi piace e ce ne sono altre ovviamente da femmina quelle più belle da femmina sono tutte a pagamento però se scorriamo e scendiamo un po' più giù ci sono quelle gratis questa qua però è damasco è gratis questa qui è gratis quelle che non hanno il lucchetto sono gratis non vi preoccupate perché ce ne sono tantissime guardate io per esempio queste qua sono gratis e credo che sia diamo un gas no qua dice mega mega drift non so cosa possa significare vabbè poi c'è questa qui che è gratis ed è da femmina perché vedete ha i capelli a me non mi piace molto del mio genere ovviamente ce ne sono tantissime da femmina anche di halloween adesso non so se ci sono ancora perché io quando l'ho visto che c'erano quali di halloween era ancora prima di halloween quindi non lo so se le so le hanno tolte guardate quante ce ne sono gratis adesso io non le sto prendendo cioè non le sto trovando perché ce ne sono un sacco guardate man mano che carica ce ne sono sempre di più e sono credo fino all'infinito suppongo questa qua sarebbe bellissima anche se da maschio vabbè se avessi i capelli sarebbe i capelli lunghi sarebbe un po' più bella cioè sarebbe la femmina quindi più bella vediamo un po' se ne trovo altre comunque avete capito in che senso poi vi vengono salvate per esempio io vado qui mi piace questa qua per esempio anche se a me non piace cioè non piace tanto vado qui questa qua è forza più carina non lo so vabbè anche per i maschi ce ne sono un botto questo sarebbe bellissimo perché si abbina tanti cioè si abbina mi assumite un sacco ovviamente non è che sono maschile in minecraft però per dire io per esempio scelgo non lo so scelgo per esempio questa qua che è un po' più perché la ma è il nero vado sulla freccia vado qui e si me la salva poi c'è ovviamente un altro modo allora per avere questo modo bisogna uscire dall'app dove c'è da minecraft e scaricare quest'app cioè modmaster questa qui che sto indicando non fate cassa tutti i giochi che ho per ora comunque schiacciate qui comunque non so se ho detto comunque però comunque schiacciamo su modmaster che è un'app che credo sia sia per apple sia per apple che per android però io ho apple quindi non lo so modmaster l'apriamo ci caricherà la possiamo anche girare credo sì vabbè però la tengo vabbè così va bene sì va bene e vado a scorro così aspettate così e mi dice maps mods mod vabbè sarebbero le mappe le mod cioè tipo cose che aggiungi su minecraft le skin i pacchi questo credo siano mondibo e i server e le texture pac cioè le texture allora noi per avere una skin bella bella cioè a scegliere skin se sono su skin queste qui con scritto 100 conis sono a pagamento purtroppo ci sono tutte queste skin che sono tutte gratis quindi non c'è nessuno a pagamento a parte quelle che troviamo in alto sono sia gli animali e poi noi possiamo schiacciare anime che sono per esempio quelle queste qui per esempio baby che sarebbero quelle da bambino quindi sono piccole poi boys che sarebbero quelle dei maschi poi queste qui più in qua se scorriamo per le femmine c'è scritto anche girls cioè femmine in inglese vabbè e sono tutte quelle da femmina ovviamente ci fa vedere per esempio questa qui sia da avanti che da dietro come tutte queste questa qui mi piace tanto forse le pantalone non tanto però vabbè queste sono tutte le skin queste qui che vedete in alto queste qui sono a pagamento questa qui tanto tempo fa era gratis però adesso non lo è più purtroppo vabbè quindi voi mi raccomando schiacciate per esempio su una fate caso e schiacciateci qui su tipo inoltre salve tucca salve tucca vabbè schiacciate questo pulsante ho paura di pronunciarlo male schiacciate questo pulsante poi andate su minecraft dove vi faccio vedere vabbè schiacciate lì ve la salverà su foto adesso ovviamente voi potete ovviamente schiacciare anche su mod e vi appaiono tutte le modi che sono tutte gratis quindi potete prenderle io così ho preso anche delle texture pack alcune le ho pagate mi sa una guardate queste qui sono tutte gratis ovviamente ci sono molti tipi per esempio queste qui sono quelle più popolari queste delle macchine ci sono anche le macchine tnt diverse tutti i tipi quindi abbiamo a disposizione molta roba poi queste qui ci sono i trasporti cioè tipo macchine aerei vabbè aerei guardate queste qui per esempio un elicottero questo sono tipo jeep non so vabbè comunque questa è una moto vabbè allora dopo che avete salvato la skinny per esempio io voglio salvarmi vado su girls ovviamente abbiamo tante altre cose a disposizione vado qui e per esempio voglio prendere questa qua fate caso vado qui vado su schiaccio qui ho paura di pronunciarlo male schiaccio qui e esco dall'app vado su minecraft adesso dovrà caricare per sbaglio cioè per sbaglio per per sfortuna vabbè vado su profilo vado su modifica personaggio vado su di proprietà guardate questo schiaccio qui vado su importa vado su scegli nuova skin vi apparirà la vostra galleria e con le vostre foto voi andrete a selezionare quella foto che vi verrà salvata se schiacciate quel pulsante di prima le schiacciate della skin e vi apparirà la skin e avrete la vostra skin ripeto per giocare multiplayer basta schiacciare su gioca gli amici che saranno online con la vostra stessa connessione wifi non lo so schiacciate quando giocheranno se sono nella stessa connessione appunto vi apparirà qui per esempio margot per esempio una sorella e schiacciarò su se è nella stessa connessione e si giocheremo insieme nel stesso mondo spero che questo video vi sia piaciuto e durato un bel po' ci tenevo questo video perché me l'avete chiesto in molti e quindi mi raccomando lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina e cercatevi di non perdervi nessuno dei miei video perché farò molti tutorial per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao